e ciao a tutti farm e sto su ve allora oggi finalmente siamo qua e andiamo a piantare le patate adesso Roberto ve le farà vedere ovviamente come avevo detto non ho preso subito la seminatrice perché la seminatrice ci va anche un po' di più e tanto c'è il lavoro mica robi che viene uguale soltanto che lo fai a mano ovviamente mi dà la mano Roberto come sapete le patate sono quelle a spunta guarda Roberto che ha più esperienza di me vi puoi spiegare lui che le patate c'è tu suonate robi cosa che andrebbe fatto oltre che vabbè tu che l'hai già fatto più o meno cosa che bisognerebbe fare niente se sono grosse vanno tagliate a metà queste qui sono proprio per semina e si buttano così di fatti hanno già tutti i butti e loro buttano e viene fuori il fiore e da una patata vengono fuori quattro cinque altre patate quindi pensate a voi quando ne vengono fuori e niente adesso parte un bel timelapse vi faccio vedere tutto quello che facciamo ciao a dopo ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.